Ciao ragazzi, io sono Callari e come alcuni avranno già notato lo sfondito a me è cambiato Beh, è cambiato perché oggi registriamo da Playstation E registriamo un gioco davvero davvero bello, il mio preferito fino ad adesso, fino a quando c'era Assassin's Creed Origins Ovvero Overwatch, e mi piace ancora di più da quando hanno aggiunto il deathmatch Ovvero, per me sono due o tre giorni, per voi sarà pure una settimana e passa Perché questo video c'era tipo a metà settembre Ok, direi non perderci il chiacchiere e iniziare subitissimo a giocare Io faccio prima un FFA, ovvero un tutti contro tutti, volete chiamarlo voi E in questa modalità non uso il mio personaggio preferito, ovvero D.Va, ma uso un altro personaggio Solo 76, perché mi trovo meno, perché si può curare, ha un buon danno, un ultra davvero ottima E c'ha i razzetti che fanno davvero davvero male Altri personaggi molto usati in questa modalità sono Mekri, Anzo, Pharah e Genji Insomma, tutti i personaggi d'attacco fanno brutto in questa modalità Tranne i tank I tank e i giocatori di supporto fanno schifo Escluso Road Dog, visto che hanno di nuovo alzato il suo danno Ed eccoci qui a Chateau Ghiliard Mettiamoci il nostro soldato Questa bellissima skin E speriamo di riuscire a trovare Allora, gli avversari sono tutti quanti stellati Io sono Non il più scarso, però ci vado vicino, di livello Di solito arrivo sempre tra il quarto posto e il primo Ci riesco sempre a vingerlo in Deathmatch Poi dipende molto dai personaggi che usano Ecco, Road Dog è maledizione Quindi tipo, scappiamo E Ripper, aiuto Ecco siamo a morte Che squadra usano, ne? Si potrebbe pure fare Ho paura molto dei Ripper io perché sono Fanno davvero tanto male da vicino E io gioco meglio da vicino Ecco Ok Siamo riusciti a fare una kill Ok, doppia Ma 2 Ripper sta a 4 Ve l'avevo detto che era Molto forte Ripper Me ne ero accorto Ok Curiamoci Senza farci vedere da quel Genji Ci ha visto Road Dog No, non c'è Mi sarei nemmeno accorto che l'abbiamo sparato Uh, abbiamo ucciso Genji Fighissimo Ma il Genji sta già a 5 È davvero fortissimo Con Road Dog non abbiamo speranza Visto che gli hanno di nuovo alzato il danno Oltre ad aver raggiunto la seconda Mina a Junkat Doppia incredibile Sono troppo a pro Aiuto però questo Tracer Ci ha davvero fatto molto molto male Ripper riprende il vantaggio Che mi ero guadagnato E c'è la bomba in buca E c'è la bomba in buca di un maledetto Junkat Ecco qui Junkat Una che è davvero infame però Eh, ci stava Dai Se ripper è davvero Ecco no Road Dog Ha rovinato tutto Road Dog Ma vabbè Si è preso una doppia Se l'hai giocata davvero bene Continuerò a rialzarmi Ok Abbiamo anche la Ultra Direi di usarla Appena riusciamo a trovare degli avversari Decenti Non un Road Dog Ecco lui Maledizione Se l'hai giocata troppo bene Poi di ripper ho paura Perché appunto Sono qua la maledetta abilità Di diventare un phaggasma E mi nerfano La La Ultra Ah, mori eh Stavolta l'ho bloccata pure io Però ha fatto una doppia È davvero Molto bravo questo ripper È il più bravo Cioè Gli altri sono abbastanza scarsi C'è da dirlo Anche questa Tracer Se la sta giocando Molto bene Però questi volami connessi Mi fa davvero cagare Infatti Lo uccide Continuiamo a Rimanere secondi Molto buono Cerchiamo di ammazzare Questo McCree Ecco È scappato Ma questo giocatore Lo conosco L'avevo già incontrato Wow Com'è piccolo il mondo Scappiamo da quel ripper Perché ho davvero tanta paura Ecco Tracer Ce l'ha Lì dove non batte il sole Eh Infatti Però abbiamo sempre Due kill di vantaggio Dal terzo Però bisogna Sempre non sottvalutare Il Proprio rivale A me la donna Si chiama il Mercy Dov'è Ma quanto fa male No Se mi faccio ammazzare Dalla Mercy Mi ritiro Vabbè la vado a uccidere Ormai è una Questione Unità di morte Ecco Mi ha ucciso Mercy Perfetto Posso pure abbandonare Il video finisce qui ragazzi Non pubblicherò mai Perché essere ucciso Da una Mercy Nel deathmatch È davvero vergognoso Mezzogiorno di fuoco Attenzione A me Creep Ti ho nel mirino Ah ma dopo Reaper È sempre lui che Provina tutto Ma almeno Anche io Ce la siamo portata A casa Ok Continuiamo di qua Oh bello Abbiamo ucciso Reaper Con una headshot Abbiamo ammazzato E Mercy Un'altra volta Su di me Quante kill Ha fatto 8 kill Incredibile Complimenti Angela Fa una doppia Junkat Su Mercy Per fortuna C'è quell'infame Di Roadhog Che mi vuole ammazzare Però Si prende McCree La sua kill No Ho sprecato Razzetti Elix Cosa Quanto brutta Mi manca uno Ci sono Al Reaper E credo che la farà Su di me Anzi me la faccio male Per finire Questa partita Ci siamo portati A casa Il secondo Posto Davvero buono L'azione migliore Dalla parte Che è sua Io ho fatto una doppia Lui che cosa ha fatto Uno E ho fatto la doppia E ho fatto la doppia Ragazzi Bossa Non so Da qualche giorno Questa parte Le azioni migliori Dalla partita Fanno davvero schifo Ok Io direi di Andare Quindi Adesso a provare Un dettonezza squadra E poi possiamo Anche finire il video Che è stato davvero Io mi sto divertendo Abbiamo preso un secondo posto Davvero ottimo Nella scorsa partita Adesso non giocava bene Qui invece possiamo stare Viva in tutta la sua bellezza Ok la squadra Ecco Invece in questa modalità I personaggi più usati sono Stranamente Guido Miniker Sono tanti Ripper Ripper Genji Soldato Insomma Nei deathmatch Gli attaccanti Sono quelli Più forti Ecco E' arriva Doomfist Un personaggio davvero Dioso Abbiamo Tracer Non mi piace Per niente Ok Doomfist Possiamo Ammazzarlo facilmente Se solamente riesco Trovarlo Dov'è Eccolo Che Doomfist Si muove sempre E si stordisce E' un personaggio davvero davvero E muori Ok Ucciso Per fortuna Io in questa mappa Non so dove stanno i medici Perché Me la giocavo Quando è che Questo è FK Sì FK Quindi possiamo ucciderlo Facilmente Però ci sono questi tre Sì Una kill l'ho fatta Su Junk Ottimo 3 contro 1 Fare una kill Direi che è abbastanza buono Però la mia squadra Non si fa sentire più di tanto Ecco come l'ho detto Anzo Anzo Dopile di Anzo E' incredibile Grandissimo Ok Andiamo al creatore Junkrat Genji Fileshot Su Tracer Come l'ho detto La squadra è davvero davvero buona Riffle Tu prego Non mi uccidere Ah è stato Junkrat Ecco perché Doppia Grande Ok ho sbagliato Avevo sottovolato la squadra Sono davvero bravi Bella kill di Doomfist Non trovo nessuno Ho attaccato la bomba Trazer Facciamo la ultra Così a sfizio Attendo in questa mappa Dove la vuoi usare Dai Doomfist Contro Doomfist Ti va contro Ripper Ovviamente Vinciamo noi Però non mi allontanare Riffle Perché se io non faccio nulla Di danno Ok C'è questo Junkrat Io ho 29 di vita Devo curarmi Ok un bel Medikit Oddio Che sta succedendo Io vi porterò Altri video di Overwatch Se questo video vi piacerà Non so Ditemelo nei commenti Vi lascio anche Una scheda qui In alto A destra Dai perché secondo me È bello come gioco Ho tutte medaglie d'argento Stiamo giocando Mediamente bene Ah ecco soldato Ho soldato le cure E direi di scappare Perché È una partita molto equilibrata Ok Blocchiamo gli da ultra Però qualcuno che mi aiuta Per favore Ok Maledetta Aiuto ho paura Devo cercare un medikit Dov'è Eccolo qua Hanno preso il vantaggio Addirittura Brutta cosa Stanno Surpassando Non voglio perdere Perché nessuno mi viene appresso E da sola Non riesco a fare niente È il brutto Usare i personaggi Termina Che poi parla Termina Il fatto che è sicura Di per quando fa danno È odioso Ok Morto Dai Dai però Squadra Ho detto che era sorte Come non detto Io sono l'ultra per noi In questa mappa C'è capitata una mappa Quanto brutta Oh doppia di Doomfist Bravo Io faccio questo rifer Con i retro razzi E ci portiamo In parità Ottimo ottimo Ecco come l'hanno detto Dove riuscire a lanciare una bella ultra Però non si può buttarla Qua Nessuno Non è una ultra Da questa mappa Doppia Ottimo Aia Ok Ok Basta Era un ucciso Soldato L'importante è se non passi a ammazzare Ecco come l'hanno detto Ok Giangraff L'abbiamo fatto fuori Però lì perché Mi ammazzerà proprio Molto facilmente Ma do Di poco Devo riuscire subito A uccidere Non vado a ammazzare Per favore Eh Abbiamo perso Non fa niente ragazzi Beh una vittoria Una sconfitta Ci sta Anche perché Aveva perso davvero Di poco Vediamo chi era Assieme della partita Doomfist ovviamente Ha giocato molto bene Non so perché poi Si è spento Si è bloccato A un certo punto Ecco qui dove fa La doppia Preparatevi all'impatto Ottimo Ecco ci sono io Mi voto da solo Perché sono Molto infame E abbandoniamo la partita Ok ragazzi Magari questo video Sarà quello In compagnia di qualcuno Non lo so Vedremo Mi raccomando Desserti che questo Gioco vi piace Se fosse così Vi invito a lasciare Anche un bel pulso in su Commentate Condividete il video Con tutti i vostri amici Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Noi vi siete stessi Ci vediamo al prossimo video Ciao